Musica Dentro o fuori la televisione Meglio a te qualche volta e o meglio un cognome Il risultato è il tuo prospettico efficace mi adatta Se la mia pelle del 2000 è ancora anni 80 Non si riesce divinare con 80 Non c'è scena divina che anni 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 80 Posta che non mi piace questo baraccone Sarà che il tempo è triste e sta nel fuori una prigione Ho valutato per il controllo di una vita alla parte Non c'è scena divina che anni 80 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 Non c'è scena divina che nodite E' Societismo conti che che anni 80